Chisca che aveva la scheggia su Peppe. Chisca, hai capito o chi? Peppe la scheggia, bravo. Allora, lo so, lo so che hai finito appena di giocare, anzi astuati, cioè asciugati insieme a Dio. Allora, chisca veloce te ne faccio andare. Allora, ho te fatto i complimenti, magari parlamo a fa' perché tu ce ne stai facendo andare carico di meraviglia a tutti quanti, ma io una domanda te la devo fare, ma tu dove stavi? A stivato, cioè tu eri conservato. Com'è possibile che un giocatore ha così fatto, così, a tutto il mondo? Cioè non lo sapeva nessuno, nessuno, anche più grandi esperti. Guarda, ora ci sono tutti questi scienziati roba loro, no? Che di là, un punto ne è servo. Eh, io per questo, per tutte tecniche, quanto sapevano proprio. Ma, ma i tali scout, cioè i tali scout che scendono di casa, che li fanno proprio con una fatica di cercare, cioè, individuare i giocatori fatti. Allora, scusa, ma questi non vanno a bere proprio niente? Secondo me da una cumara. Dicono alla moglie, amore, vado a vedere i giocatori all'estero. E poi così, giorni dalla becca. Non lo so, cioè, sto facendo mille pensieri. Scusami, dove giocavi tu in Ceoccia? Dietro ai murilli, cioè, stavi sott'anno a campare. Com'è possibile che non t'hanno mai visto? Cioè, siamo andati, amore di Dio, siamo andati bene noi. Ma io veramente non riesco a capire. E giuntovi, giuntovi, cioè, stai trovato, non lo so, dell'autentista, che ne sapeva, che ne sapeva. Cioè, forse è venuta quando si è nata, in qualche parte della clinica, c'è la chiamata mamma, mamma, signora Laura Scheggia, non so come si chiama mamma, ha stipato a me, facendo la parla di ciò, e mi dico, se non so, se non so, e mi vengo a prendere quando si fa, un uomo più grosso. Ma guarda, veramente non so cosa ha pensato. Ma, allora, tu, tra l'altro, mi dico, ma è una frase proprio di un campione. Cioè, io quando sei venuto, mi dico, mi dico, mi dico, mi devo dire, bravo ragazzo, mi dico, mi dico, mi dico, sullo studio delle analisi, che tu, quando uno arriva, senti, c'è, sapeva, deve fare una risonanza magnetica. Ma, dice, ma vede, aspetta, l'impegnativa, chi lo fa? Guardi, io non tengo parole, cioè, tu veramente mi fai incantare, quello stasera, cioè, tu, comunque, perché non so cosa fai, a ragazzi, a ragazzi, a ragazzi, a ragazzi, a ragazzi, a ragazzi, veramente, a fare come io, mi dico, ma andate, mi stai passando, mi stai passando, mi stai passando, ma, ma, va bene. Allora, fratello, a chi apprendeci? Vi rimettetemi a stipato come te ne hanno stipato in Ceoci. e prima, prima, già, giù, e su a San Jorge, tu città di oggi, è bene a San Jorge, città di oggi, è bene a San Jorge. Ciao, adiu, tanti saluti, ciao, gabbana, superpra, ciao. Ciao.